perché se dimenticavo questo che ce n'è una tasca perché se se vi fate un taglietto questo qua è disinfettante quello proprio anche cicatrizzante no che vi dico anche il prezzo che veramente preso in farmacia quindi non cavolate c'è anche quello qua dentro i pantaloni che se voi professiate l'acqua qua non praticamente dopo facciamo la prova non entra l'acqua 70 euro di pantaloni li vale se voi li tenete spesso le potete lavare tutte le volte che volete cosa avete perché sono queste tasche qua perché vi entra aria qua per non sudare potete avere dei biglietti per andare da menia che abbiamo rinnovato la convenzione una penna da quest'altra parte qua taccuino ovviamente ce l'avete tutti qua chiuso che non lo perdete e qua avete anche il tesserino cai perché bisogna essere anche cai sedata in alta montagna tipo il camino celeste che si va in alta quota più di mille metri è meglio essere assicurati perché perché se succede qualcosa deve venire l'elicottero a prendervi allora l'elicottero costa minimo dei 5 mila in su meglio essere assicurati con una piccola pollizza che se non sapete dove andare potete andare del nostro amico qua che è un bene distribuite che è nuovi biglietti adesso partiamo